adesso ho sbagliato profilo ci siamo se ho partito subito bene poi dopo ha razzalato un po male riesco aumenta ma se ce la faccio oppa la porca valla sbagliata l'ho sbagliata non era deciso già 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 pieno di alborello certosino bella ragazzi salutiamo tutti ecco 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 questo è la todo coach la decisione di partire forza e coraggio e parti dai ecco una parte e quell'altra sì non so cosa un gatto no ho preso il mio pesce rosso che avevo messo qua un anno fa ho preso il pesce no ma non ci posso credere l'ho messo io questo ed era un terzo non ci posso credere ma porco cazzo è diventato grosso aspetta cacchio mi chiami Massi ecco è diventato grossissimo ragazzi ve lo faccio vedere qui guardate qua pesissimo interroppo